Ciao a tutti, sono Federico, titolare della pasticceria Converso di Bra, in via Vittorio Emanuele 199. La nostra attività è aperta come pasticceria e anche come asporto per quel che riguarda le colazioni, cappuccini, caffè cioccolato, gelati e quant'altro. Effettuiamo delle consegne a domicilio anche nelle zone limiti a Febra, basta chiamare il numero 0172 413626 e vi aspetto per queste feste natalizie, il panettone converso non può mancare. Ciao a tutti, ciao!